salve come sapete stiamo aspettando che questo nuovo decreto del tribunale dei minori di ancona che dovrebbe sbloccare finalmente questa situazione che attanaglia il sottoscritto ai miei figlioletti da tre anni ormai da tre anni quindi oltre io ho scritto delle pec come vi ricordo al ministero della giustizia al ministero della salute al dipartimento della famiglia e ad altre istituzioni al consiglio superiore della magistratura anche al quirinale per conoscenza abbiamo scritto allora vi ricordate la protesta sul tetto quella mia piazza almerina nel 2008 2009 ok io penso che questa protesta si riproporrà io ho fatto sapere al sindaco del paese dove abitano i miei figli che molto probabilmente questa protesta la farò nel suo paese questo perché perché se scioperi ti mandano dallo psichiatra se fai lo sciopero della fame ti prendono come quello che vuole fare si vuole tirare addosso i giornalisti quando a me non me ne frega niente i giornalisti anzi mi devono stare lontano ma lo faccio soltanto per per sollecitare le altre istituzioni che non so se si stanno muovendo probabilmente mi stanno ignorando con la speranza che io mi arrabbi di più fino a commettere qualche altro reato ecco perché il gioco di questi personaggi come cecchitelli iovinetti berardinelli l'arena la nadia messina sono atte ad allontanarti ad allontanarti non solo dai tuoi figli ma ad allontanarti proprio dalla realtà ti fanno entrare cercano di farti entrare in un circuito perverso affinché tu con la rabbia da persona debole commetti qualche crimine ecco forse qualcuno non ha capito che gian camerino crimini non ne commette ma vi fa vedere delle cose come vi ho detto ieri che non ve neanche immaginate io faccio scendere il prefetto faccio scendere la stamba nel momento però in un momento però eclatante ecco se il tribunale entro entro non gli do più tempo ormai basta perché comunque io l'ho denunciato e ho chiesto di togliere il fascicolo spero che lo faranno non voglio essere più seguito da questo tribunale e non voglio che questo tribunale tuteli i miei figli perché di fatto non li sta tutelando completamente questo è un parere di un padre ragazzi di un padre che invece di ammazzarsi di un padre che invece di andare a litigare con la ex di un padre che invece di andare a come dire a a dare calcio all'assistente sociale no è qui a parlarvi e a dirvi e a denunciare delle cose che succedono signore e signori allora è inutile che ci nascondiamo dietro un dito oppure che mi accusate che io do la colpa a tutti senza che io mi so prendere le responsabilità adesso adesso vedremo chi è veramente responsabile faccio vedere vi faccio vedere io chi è responsabile adesso come ve lo faccio vedere voi continuate a denunciarmi voi continuate ad attaccarmi in questo modo continuate a a disgregare il padre dei minori che dovreste tutelare grandissimi disonesti tutto certi istituzionalizzati ovviamente perché solo solo istituzioni come dire istituzioni sporche fanno questi questo tipo di lavoro certe azioni si fanno dove ci sta il conflitto dove ci sta lo schifo se volete sia a piazza almerina che che ad ancona ve li segnalo io delle case dove ci stanno dei minori che non possono stare in quelle case a lì la ciala alla sapete che mi dice la cechitelli camerino perché ci siamo noi sennò lei poteva fare quello che voleva ho capito cioè poteva fare potevo fare quello che voleva ma siccome ci siamo noi devi fare come dico io solo che come dico io è molto esagerato non è questo il caso quindi questo è un annuncio questo qua se non arrivano immediati immediate notizie dove ci lasciate liberi con i miei figli di vivere serenamente la nostra vita di vivere serenamente da persone normali camerino se di nuovo si auto sospende da padre e mi dedico a voi con delle proteste talmente eclatanti che faremo muovere non solo il ministero facciamo muovere anche la corte europea perché quello che state facendo col mio caso è di una vergogna inaudita di una vergogna inaudita ne avete fatte di magari assenteisti giudici denunciati al tribunale dei minori cioè fate 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 le cose pensando che nessuno se ne accorge no fate le cose pensando che che noi padri e madri separati siamo dei coglioni che non vediamo le vostre cose invece noi ci vogliamo molto bene i nostri figli e per questo che siamo qua a parlare a protestare a fare il suo periodo della fame non come i genitori che da un momento all'altro gli gira il cervello si mettono lì sotto signor presidente e si mettono a protestare a rivederci noi non siamo la lega che si viene a mettere lì a fare quattro megafonate poi sale in ufficio a sentire le stronzate che dice lei carissimo presidente del tribunale dei minori di ancona noi veniamo lì non ce ne andiamo più questo glielo posso garantire e non ce ne andiamo più fino a quando lei non viene rimosso da quella da 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 quelle sue posizioni lei il dottor lucchetti e la dottoressa anche seveso capito voi dovete essere rimossi trasferiti da quel tribunale perché siete delle teri per i bambini poi lei carissimo capezza e anche membro della corte d'appello quindi uno che fa ricorso nella 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 corte d'appello troviamo sempre a lei carissimo capezza no a rompere i maroni ai genitori che lottano per far sentire la propria voce per difendere i diritti dei minori ho chiesto al ministero e vi prego di intervenire il ministero faccia qualcosa cosa sta aspettando il ministero non si può soggiacere ancora queste cose il ministero per favore voglia voglia mandare questi ispettori al tribunale dei minori e vada a prendere i miei fascicoli quelli due fascicoli e vada per favore a prendere i fascicoli che stanno al tribunale ordinario di pesaro e alla corte d'appello di ancona allora il ministero vuole fare questo come devo fare per 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 chiedere di vedere questi atti al ministero abbiamo diritto noi genitori di un po di giustizia abbiamo diritto un po di supervisione oppure dobbiamo barricarci dobbiamo fare qualche azione eclatante e eclatante per poi farvi dire che non siamo dei padri responsabili e questo è tutto da vedere